Ciao a tutti, torna dalla Keymaster, partita rapid 10-0, 2-2-43, leggera flessione ma non si ferma la corsa verso il 2300. D3, apertura Mises, anche il nostro avversario sceglie il fianchetto di Re, si prospetta una partita interessante e qui scegliamo un seguito poco comune, molto chiuso, si prospettano lunghe manovre, qui l'idea è di controllare la casa d4 col pedone in c3 e poi eventualmente spingere in c4 al momento opportuno. Ok, qui cominciano, si aprono le danze e qui vediamo come il cavallo in d4 sia ben piazzato e attacca l'altiere in f5. pedone per d3 sembra praticamente forzata, rimane la minaccia sull'alfiere f5 e tra l'altro vediamo anche come di colpo l'alfiere in g2 eserciti un ruolo importante in questa posizione. La prima mossa che mi viene in mente per salvare l'alfiere e il pedone è donna c8. In realtà il nostro avversario ha ben altri piani, presumo legati ad alfiere e 2, però c'è il cavallo che al momento tiene quella casa e poi in ogni caso il cavallo potrebbe anche ritornare tranquillamente in f3. Questo pedone contro un 2136 lo guadagniamo. Da notare che c'è il vantaggio materiale del pedone e poi anche il fatto che il nero si ritrova con due isole pedonali sul lato di donna di cui una costituita dal pedone in a7 e anche questo a lungo termine può essere comunque sia un certo vantaggio. Qui possiamo pararci con alfiere g2, giocare torre f in e1 o giocare alfiere per a8. C'è davvero l'imbarazzo della scelta? Io sinceramente in questa posizione preferisco torre f in e1. Si mantiene la minaccia sulla torre in a8 e si va a contrastare la torre in a8 lungo la colonna e. Ok, qui mi sembra praticamente forzata una mossa come torre per e1 e qui il nostro avversario intende sacrificare la qualità per sfruttare poi la debolezza delle case chiare sul lato di donna. Bisogna capire se in qualche modo il bianco è in grado di difendersi dall'attacco sulle case chiare. Secondo me in linea di massima sì. C'è un cavallo in f3 che potrebbe andare a tappare la donna sulla diagonale h1 a8 e poi anche con una mossa con f3 e poi cavallo e4 abbiamo la possibilità di difenderci con la nostra donna sulla seconda traversa. Quindi tutto sommato direi che va la pena accettare il sacrificio di qualità del nostro avversario per poi passare alla difesa, passare al cambio dei pezzi e poi entrare in un finale tecnicamente vinto. Qui delle varie chance che ha il bianco la preferibile mi sembra f3. Analizziamole un attimo con calma, vediamo se c'è qualcosa di meglio come cavallo 4 in f3 o cavallo 2 in f3. F3 è tenuto da due cavalli quindi anche se uno si spostasse tutto sommato. Giochiamo f3. Aumentiamo il controllo con i pedoni del centro. Praticamente quasi tutta la quarta traversa è controllata da pedoni bianchi. Qui sono tentato da giocare cavallo e4 però bisogna fare attenzione ad una mossa come c5. Perché cavallo e4 c5. Anche il pedone in d3 è in pressione. Io sono tentato da giocare questo cavallo e4. Questo cavallo e... Ah sì ok. C'è il cavallo in d4 che momentaneamente tiene f3. Il problema è che dopo c5 non lo tiene più. Eh però c5 subito, pedone per, pedone per, cavallo per. Però c'è anche il cambio ma in quel caso e in quel caso poi f3 va in sofferenza e il bianco potrebbe perdere la qualità. Forse non è stato il seguito più saggio. A ogni modo il bianco ancora ha un certo vantaggio e quindi cerchiamo di farne tesoro. Se minuti e venti per il conduttore dei bianchi. Sette minuti e dieci circa per il conduttore dei neri. Ok, il nostro avversario centralizza l'altro cavallo nella forte casa di 5. d2. E qui però adesso secondo me. Io sono tentato da una mossa come donna d2. Si andrebbero a difendere le delicate case d3 e soprattutto f3. Abbiamo anche una mossa come c4. c4 però ma il c4 non è malace effettivamente. E poi potremmo anche giocare c5 con idea di contrastare la spinta del nero in c5. Il problema è che questo cavallo in sofferenza e c'è sempre la minaccia su f3. Alla fin fine dopo lunghe riflessioni giochiamo donna e2. Aumentiamo il controllo della casa f3. Ok. E adesso qui a mio avviso possiamo giocare finalmente una mossa come alfiere c1. Si tiene d'occhio la delicata casa e3. Si propone un cambio di pezzi leggeri. Il cavallo momentaneamente tiene anche il pedone in c3 che si trova sotto l'attacco del cavallo centralizzato in d5. Partita tutta da giocare. Ok. Qui è praticamente forzata. La torre tiene d'occhio anche il pedone in c3 e in questo modo il cavallo può muoversi. Case su cui può andare questo cavallo sono g5, f6. Anche f2 in alcune varianti potrebbe essere interessante anche se un po' passiva. Fantastica la posizione dei quattro cavalli al centro. Bellissima. Prima volta che mi capita un qualcosa di simile. Qui di fatto il bianco si ritrova a giocare con la torre contro l'alfiere campo chiaro e inoltre ha anche un pedone in più che è il pedone b. Questo è debole. Insomma è tutta da giocare ma secondo me il vantaggio è del bianco. Qui potremmo anche valutarlo. Eh sì. Cavallo f2 con idea cavallo g4 potrebbe essere interessante. F4 andrebbe ad indebolire la casa g4. In questa posizione non mi sembra il massimo. Forse è più interessante. Anche c4 potrebbe avere il suo perché? Sì. C4 mi piace e l'idea è quella di valorizzare. Ma che è successo? Il tuo avversario ha lasciato la partita? No. Ma che è successo? No. Vediamo se è un bug del sistema. Anche perché qui vedo. Non so cosa sia successo. L'idea di c4 è quella comunque sia di valorizzare la torre in c1 e di impedire con c5 la spinta del nero in c5. E' chiaro che se il bianco riuscisse a piazzare una torre in c7, ovviamente nel caso in cui il nero spostasse il cavallo in d5, non sarebbe niente male. E qui secondo me una spinta come c5 svolge un ottimo lavoro. Bisogna solo fare attenzione alla reazione con f5 perché questo cavallo fa da tappo all'alfiere f3 su cui agisce donna e cavallo neri. Io qui questa spinta la gioco comunque. 3 minuti 34 contro i 4 e 40 del nostro avversario. Qui il bianco comincia a preparare l'apertura del lato di donna per valorizzare la sua qualità. Vediamo quali sono le mosse che ha il nero. La prima che mi viene in mente è quella di spostare il cavallo e questo cavallo si può spostare in d7, poi là, ah in d5 con schiacco, interessantissima. C'è da dire, ma io me lo tengo sinceramente. Però bisogna poi fare attenzione a donna a2 che minaccia donna g2, però in quel caso avremmo poi una mossa come cavallo f2 che controlla e3. Ma secondo me è giocabile e inoltre si tiene d'occhio anche la torre in c1. Quindi tutto sommato direi che ci siamo. F5 potrebbe essere una replica del nero, però deve fare i conti anche con la presa del cavallo in d6 e sarebbe un ottimo baratto per il bianco, infatti lo evita. Apriamo la colonna c e va bene. Cavallo c6 purtroppo non è possibile perché la casa c6 è controllata due volte dal nero. Possiamo giocare allora, eccola qui, trovata. Cavallo f2, interessantissima. Si difende il pedone in d3. Si attacca l'alfiere in h3 che controlla le importantissime case g2 ed f1 e questo alfiere non ha tante case. G4 è controllata dal pedone e dal cavallo, f5 è controllata dal cavallo d4 e 6 è controllata dal cavallo d4. Quindi credo che in ogni caso il nero debba comunque è controllata dal cavallo d2. Ok, ho capito cosa vuole fare. Quella è buona come mossa. Quella di fatto guadagna un pedone? Ah no, no, fermi tutti! Il tattifismo che ho visto qual era? Cavallo per f3, re h1, cavallo per d4 e cavallo per h3. Il nero avrebbe recuperato un pedone, pedoni pari, sarebbero rimasti come pezzi torre e cavallo contro le due torri. Il problema qual è? C'è stato un buco nell'analisi da parte del nostro avversario il quale non si è accorto che dopo d4 la donna inchioda il cavallo d5 sul re in d7 e quindi di fatto rimane con la donna in meno. È in questa partita, giustamente, in questa posizione, il nostro avversario. Abbandona. Altri quattro punticini per il nostro Black Master. Si ritorna verso i 2,250 ma l'obiettivo è quello di tornare almeno a 2300 prima della fine di questa pausa natalizia. Spero intanto che la partita vi sia piaciuta. Se sì, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, spargete la voce tra i vostri contatti e che dire. È stato un piacere, un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao!